Messaggio 20 giugno 83, lunedì ore 15 e 28. Sono trascorsi molti giorni da quello della promessa che tu facessi alla Santissima Trinità, in cui ti ho affidato questo messaggio di grande importanza per l'intero mondo. L'uomo vive nel peccato, ma il suo cuore patte crescento di essere tranquillo, comportantosi bene in quello che fa. La voce di Dio lo chiama alla penitenza e all'amore. Questo amore si trova nel mio cuore soltanto. Camminate con me, prendete la strada, la salvezza, discacciate il peccato dalla vostra poca e dalla vostra famiglia. Fate regnare pace, amore, camminate dietro di me, vi contuca il mio regno, il regno dei giusti, che è quello per quelli che hanno fatto la Santissima Volontà, comandata dal Padre mio. Vi chiamo tutti a venire con me, tatemi la mano, seguitemi, sarete ereti del mio regno celeste. Tu figlia mia imparato così presto a seguire questo comando Santissima Trinità, beata come tutti quelli che hanno ascoltato su questa terra la voce discesa dal cielo tramite lo Spirito Santo. Da piccola imparata a conoscere Dio, Salvatore, Creatore del Cielo e della Terra, a te è stato affidato questo compito di far camminare i miei messaggi di salvezza.